ciao creatura io sono la catesplendente benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e S M A nuovo video sponsored by Warrior and Prince ebbene si eccoci qua tutti riuniti per vedere un nuovo haul di Shein e creatura ti dico che ho provato a fare il contouring che mi hai consigliato ovvero non ho fatto quella parte rossa di blush qua l'ho fatta solo qui e poi ho fatto una specie di con la terra ho fatto qua un po' gli zigomi più pronunciati non lo so comunque l'ho messo un po' qua poi ho provato anche un po' il naso però non so se si veda perché comunque il mio naso è un po' storto c'è l'osso perché io sono nata con un bel naso poi la babysitter mi ha fatto cadere varie volte dal letto e il naso ha preso questa brutta cosa qui perché l'osso si è vabbè lasciamo perdere mi raccomando non prendete babysitter dei 16 anni incompetenti come hanno fatto i miei genitori comunque vabbè c'era silenzio quando sono partita a fare il video c'è il vicino che sta facendo i pesi a qualsiasi ora io parto a fare un video parte il vicino con i pesi secondo me è una videocamera non so come fa a saperlo comunque bando alle ciance andiamo subito a vedere che cosa ho comprato si sono regali di warrior and prince però lui fa la donazione io acquisto funziona così è il nostro rapporto così molto frizzante quindi grazie warrior and prince per questi regali e grazie perché grazie a te facciamo anche questi contenuti rilassanti quindi anche le creature del regno di gozai e smr possono goderne insieme a te di questi video rilassanti vorrei riuscire a parlare lentamente con me far stars a smr ma non è uno dei miei doni riesco a farti rilassare nonostante la mia parlata a dhd però vabbè non importa e andiamo ad aprire che ancora perfettamente sigillato è arrivato fresco fresco ieri perché però per te ieri è un momento astratto nella settimana perché in realtà il video lo avrai visto molto molto dopo lo vedrai mi stai vedendo molto dopo ecco a dirla tutta non mi ricordo neanche cosa ho comprato però come al solito come fanno altri artisti smr ti metto a lato i prezzi col quale li ho acquistati al momento che poi se tu vai sul sito sarà un altro prezzo come sempre ho preso un regalo per mia mamma poi io ce l'ho a mente devo prendere dei regalini comunque sarà praticamente pensavo di prendere tante cosine siccome a luglio compierà gli anni prenderò tante cosine metterle insieme e fare questo regalo con tanti regali insieme quindi prenderò una robina da 1 euro una robina da 3 euro una robina da non lo so adesso ho visto una palette su sheen penso che la prenderò quella anche se sto su sheen la prenderò anche da altri negozi però comunque ho visto questa palette di sheen un po' sull'illa nessuno glielo vado a spoilerare mi raccomando perché sennò e ho preso anche un regalo per sempre io non riesco a comprare cose solo per me però Warren Prince anche per Sam ha fatto questo regalo involontariamente allora andiamo subito con i regali per gli altri poi guardiamo le cose che ho comprato per me che in realtà non sono tante è che era quell'ordine famoso che mi ero dimenticata di fare che dovevo comprare due cose per l'auto e chi mi segue su instagram gli amici più stretti sanno che era cosa sono ma solo che come te ho detto nell'altro video ho dimenticato di non so se l'ho detto nell'altro video comunque forse l'ho detto su instagram vabbè comunque te lo dico adesso quando tu vai a comprare nel carrello non c'è c'è la possibilità di selezionare gli oggetti e comprarne solo alcuni io pensavo fossero tutti selezionati invece nel primo ordine non mi aveva acquistato tutto quello che volevo e non era tutto selezionato e quindi mi sono dimenticata la parte proprio quella diciamo che l'ordine l'ho fatto principalmente per l'harness però volevo anche tantissimo quelle cose lì che adesso vedrai e quindi poi già che dovevo fare l'ordine e già che ho visto altre cose che mi servivano che mi piacevano visto che se superi un certo numero di euro non paghi la spesa di spedizione e ho detto vabbè facciamo quei 9 euro lì erano 9 euro quel giorno e quindi facciamo quei 9 euro lì o quello che era e prendiamo anche altre cose che comunque costavano poco erano tra gli sconti quelli flash ho detto prendiamo via prendiamolo ho preso questo orologio per mia mamma e lei ha il polso sottile quindi penso che possa andare bene è rosa ed è un tipo uno scrange come cinturino ed è tipo rosa cipria e si poteva scegliere il disegno all'interno del quadrante e gli altri non mi piacevano invece questo è molto tipo estivo perché c'è una specie di stella marina di Patrick stella marina e quindi adesso me lo provo super comodo è super carino non stringe è molto comodo bello è tipo una specie di raso ho detto no ma non è molto comodo c'è una parte che pizzica invece mi sono accorta che c'era questa non so se si vede c'è il cosino per non far partire l'orologio così non si scarica infatti è fermo ho detto no ma l'ho comprato scarico invece no c'è anche quello per salvare la batteria quindi per il presto che l'ho pagato è anche troppo bello poi il computer nuovo mi sono accorta che non ha il lettore delle schede SD della videocamera e del microfono quindi ho detto accidenti per fortuna che ne ho due a casa le prove entrambe non funzionano perché sono vecchissime perché io editavo i video con l'altro computer quel portatile è scrosissimo che ho che ha tipo 15 anni e ha il foro per le SD invece questo giustamente è un computer super power però gli manca quel foro lì e ho trovato tipo un euro il lettore spero che funzioni ed è tipo una USB però ha il foro per le schede SD per trasferire i dati del microfono e della videocamera al computer per poterli editare super utile e super economico speriamo che funzioni ma le recensioni dicevano che funzionava benissimo e quindi mi fido insomma spero che non siate dei bugiardi su Shein solo per avere i punti delle recensioni per avere poi gli sconti ecco speriamo un confido nell'onestà della gente però comunque su Amazon costavano tantissimo rispetto a un euro di su Shein allora ho visto dato che devo fare l'ordine anche se non mi arrivo subito però lo prendo lì poi per Sam vado il pesto forte lo tengo sul finale per Sam ho preso questa che ho preso la più piccola e sembra gigante quindi immagino quella grande quanto sia grande ho preso questa spazzola è stata plasticona è stata di quella plastica hai presente? mi è venuto un flashback quando si andava al mare da piccoli che c'erano i gonfiabili i materassini gonfiabili che appena ho comprato sapeva da quella plastica potente è stata proprio di quella da materassino gonfiabile comunque è una spazzola fatta così ho visto che all'interno c'è anche del biadesivo e delle piccole piccole viti e va fissato dove si vuole su un tavolo cioè sulla gamba di un tavolo su una sedia oppure dove si lo so vediamo perché è fatto così io lo metterei su se ci sta sulla gamba del tavolo della cucina lo fisso lì e quindi dopo Sam può auto pettinarsi può farsi le coccoline quando non c'è nessuno adesso è il periodo che quando finirà sto momento di eterna pioggia e freddo tra un po' tornerà caldissimo anzi arriverà il caldo di colpo sono sicura anche perché già dicono che le prossime settimane ci saranno 29 gradi eccetera eccetera e io ci credo perché è sempre così potrà auto pettinarsi e togliersi un po' di peli secondo me è una bella coccola già le avevo preso tempo fa su Amazon le avevo preso quella pallina di catnip che sarebbe l'erba gatta quella originale non quella che abbiamo in Italia e lei è per tipo la pulizia dei denti è rilassante per gatti e lui la usa tantissimo si apre e chiude spesso va lì mette il musetto così e io dico vuoi la pallina? e lei miau e lui la si la usa perché si struisce così no? e dopo quando ha finito lo chiudo così resta anche la fragranza non si consuma l'aria e quindi io l'ho trovata a forma di pinguino e tipo la pallina è la pancia del pinguino e lei invece ho visto che c'era anche a forma di avocado così ma costava tantissimo solo perché c'era la forma più carina allora chi se ne frega l'importante che sia utile le ho regalato tipo per Natale e le piace tantissimo adesso le ho comprato questo così si diverte anche a auto pettinarsi poi a 25 centesimi come è possibile non ho capito come è possibile ma è così ok ho comprato dei micro asciugamani che puoi usare come preferisci quindi c'era scritto anche che si potevano utilizzare per struccarsi io penso che ne metterò uno in auto perché non si sa mai per ogni evenienza e uno lo metterò nella borsa e poi dopo vedo perché sono 5 e posso metterli dove voglio erano colori random purtroppo spirgiando mi pare che ce n'erano neanche se sono tutti verdi top io godo vediamo sono morbidissimi sembra ciniglia non me li aspettavo così morbidi onestamente per 25 centesimi non all'uno ma tutti e 5 1 2 3 4 e 5 eccoli qua che bello allora ne ho due una specie di rosa pesca chiaro molto pastello bello uno bianco uno bianco lascerò in bagno quello e due verdi raga due verdi uno finirà nella mia auto e uno nella mia borsa di quelli verdi ovviamente non puzzano stranamente ho paura che mollino hanno un sacco di cioè non sono pelosi ma sono super soffici secondo me anche questo per struccare quasi quasi quello uno di quelli rosa me li metto me la metto me la tengo in bagno per struccarmi e poi ne avanzo un altro rosa uno bianco poi vedrò cosa farne probabilmente uno dei rosa li regalerò a mia mamma e quindi vabbè un colore tipo salmone pastello un colore pesca boh non so però quelli verdi sono top sono tutti miei ok non ci speravo in uno verde perché quando ci sono i colori rando a parte la spugna l'ultima volta di solito non mi arriva mai il verde sei stata fortunata stavolta mi metto con te i due pezzi forti ahah non vedo l'ora di pimpare la mia smart pimpame smart non vedo l'ora di che finisca la pioggia così posso andare a pulirla per fuori no per fuori scusa per dentro usare la mia aspirapolvere che ho già usato e funziona da dio però non voglio stare in macchina sotto la pioggia cioè vorrei avere almeno dieci minuti dove poter sbattere i tappeti senza lavarmi dalla pioggia e aspirare con calma le briciole capito però l'aspirapolvere che mi hanno regalato il compleanno top funziona da dio l'unica cosa appunto che aspettavo il bel tempo per fare tutti questi passaggi mettere il profumatore d'auto mettere anche quello per pulire i vetri quelle cose lì perché andranno messi all'interno di questo che ti sto per mostrare che secondo me è una figata e spero di poterla mettere che ci stia nella mia ho preso due uno più piccolino e uno più grande sono tasche diciamo per i sedili perché la mia smart non ha non ha tanti cassetti ecco ne ha solo uno sotto la radio che ho già riempito perché c'è il gattaghiaccio e ci sono delle mascherine di emergenza nere fiche ffp2 e poi ci sono i i parchimetri dici così sì quello per il parcheggio no per l'orario e non è il parchimetro il parchimetro è la macchinetta che vai dove vai a mettere le monete aspetta il disco orario il disco orario e basta mi pare e però appunto ci sarebbe un altro cassetto sotto al sedile del guidatore ma è troppo duro e non riesco ad aprirlo e sono sicura che se ci metto qualcosa di che mi serve non riesco ad aprirlo e quindi non riesco ad utilizzare la cosa che mi serve quindi ho comprato questi adesso con nero su nero non vedrai nulla la metto sulla mia faccia allora sono delle taschine allora le pensavo più grandi quindi sono contenta che non siano così grandi perché così sicuramente stanno sulla mia smart hanno un elastico che va messo tirato io questo lo voglio mettere voglio mettere entrambi sui sedile del passeggero che tanto non utilizzo quasi mai sarebbe posto di Sam perché sono una persona amissata comunque questo va a lato del sedile immagina poi lo vedrai io spero che ci stia tutto perché ho un'idea e voglio che sia così allora a lato del del passeggero così io mi giro così e ho tutti i miei oggettini a lato quelli che mi servono le tipo non lo so le cose che mi possono servire al momento finché non lo so nelle emergenze e tipo i fazzoletti di carta che a volte mi servono e poi ora che li cerco nella mia borsa che è la mia borsa tipo Mary Poppins c'è la più piccola e c'ho di tutto e quando cerco qualcosa non trovo mai la cosa che cerco quindi qui voglio metterci allora all'inizio pensando che fossi più grande ci volevo mettere un'altra cosa ma dato che è troppo piccola e non ci sta ci adatterò comunque delle altre cose da mettere ci sono molto utili se hai qualche suggerimento su cose utili da tenere in auto per le emergenze fammelo sapere io ho sicuramente i fazzoletti e il gel per le mani perché adesso non posso vivere senza poi dei assorbenti di scorta non fanno mai male e sicuramente una bottiglia d'acqua e poi anche in questa che è per il retro del sedile quindi sempre del sedile del passeggero così faccio così e prendo sicuramente ora voglio mettere il libretto dell'auto che è dentro con l'assicurazione e tutto che è dentro una cartellina che mi hanno dato quelli dell'assicurazione e solo che al momento l'ho messa a lato del su una portiera perché hanno tipo delle taschine di corda tipo queste però la mia ansia diciamo la mia paura al momento è che cioè non è un'ansia però siccome potrebbe succedere per evitarlo lo evito se posso evitare lo evito c'è la possibilità che quando qualcuno apre la porta e sbattatamente io no però a volte porto mio papà e siccome mi ha già sono già successi altri episodi allora per quello c'ho tipo l'ansia la paura perché è successo non perché me lo sono inventata che c'ha la paranoia e che apre e cadono le cose gli oggetti perché diciamo che quando una persona utilizza le proprie cose ci sta dietro se usa le cose degli altri se ne frega ecco diciamo così anche se c'è chi se ne frega anche delle proprie cose però vabbè io ci tengo e quindi voglio che tutto sia messo bene allora nell'esempio non so cosa non si vedrà nulla però nell'esempio loro mettevano tipo un tablet qui perché in realtà era presupposto che questo fosse un autocrat dove i passeggeri dietro vedessero i bambini tipo vedessero il tablet con i film io non ho passeggeri dietro perché non ho proprio dei sedili dietro e a meno che qualcuno non voglia rannicchiarsi dietro dove c'è il baule no qui ci stanno delle bottigliette d'acqua e quello lo userò sicuro in uno metterò le bottigliette d'acqua e nell'altro metterò quella a fare per anche qui che c'è spazio che è grande quella a fare per pulire i vetri hai visto creatura nell'altro ho anche qua vabbè dove qui c'è un sacco di spazio in più un sacco di e o qui ma forse è meglio qui o qui ci metterò il libretto così è lì al sicuro se dovessero fermarmi i carabinieri come già è successo ce l'ho lì a portata di mano ma non hanno già fermato i carabinieri neanche la polizia perché ho la macchina targata a Roma e quindi una persona con una targa targata a Roma al nord fa un po' a Lendinara che è un paesino piccolo fa un po' strano non lo so però ho già fermato due volte però se mi segui su Instagram sai già tutte queste storie perché racconto sempre queste simpatiche avventure però vabbè comunque non vedo l'ora di poter sistemare tutti questi gadget all'interno della mia piccola auto che è un'auto praticamente abitazione naturalmente perché la sto pimpando così troppo bello perché è piccolina compatta però la voglio rendere molto accogliente e sicuramente andremo a metterci uno di quei anche tessuti di verdi e non lo so consigliami creatura ah potrei metterci anche l'aspirapolvere perché ci sta lì no vabbè perché io pensavo di metterla sul baule in realtà se la metto dentro una di quelle taschine dove ci sta in una metto la bottiglia d'acqua nell'altra metto l'aspirapolvere perfetto perché è grande perfetto cioè veramente top adoro e non vedo l'ora di realizzare tutti questi questi cambiamenti nella mia auto così poi dopo ti farò un video tour della mia smart pulita e profumata e arredata cioè adoro se io sono fatta così se ci tengo tanto una cosa vabbè pensa che adesso ti faccio il tour della macchina e un giorno ti farò il tour quando ti farò il tour della casa top però prima devo pimpare la mia auto eh tu cosa ne pensi pimp my smart però quando leggerai nella home pimp my smart vedrai tutti gli accessori perché è facile farlo con la mercedes con la jeep con le macchine super fiche farlo con la smart ti sfido creatura vabbè ringrazio ancora warren prince che ha permesso che acquistassi questi accessori per la mia auto e che per me che magari su shin le ragazze non so comprano gli abiti i trucchi eccetera eccetera io mi compro gli accessori per la auto top sono una dea speciale spero che questo video ti abbia fatto rilassare io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura